Siete mancati mentalmente, ha detto Oddo, perciò insomma è deluso per questo primo tempo. Poi sì c'è stata la reazione, avreste potuto realmente e sinceramente anche vincerla per le tante occasioni create e non concretizzate. Che cosa è successo nel primo tempo? Vi sentivate troppo sicuri? Ma no, io sinceramente non credo questo. Credo solamente l'atteggiamento sbagliato e nel calcio purtroppo si paga. Quindi è stato solo questo. Sei stato bravissimo in occasione del gol, lo spunto. Certo hai trovato anche la deviazione che ti ha consentito di segnare. Poi ne hai avuto un'altra della di testa, è stato bravissimo. Io mi rifiuto all'altra. Sì, poi l'altra mi sono sentito toccare da dietro con la testa dal difensore e non sono riuscito a coprirla bene. Devi ringraziare la decisione di Oddo perché insomma Cocco non c'era, altrimenti forse... Vabbè, io sono a disposizione della squadra e faccio quello che dice il mister.